Eccoci qua, bentornati, bentornati, scusatemi ma qualche problemino tecnico c'è stato Allora, allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo video Adesso vediamo i primi che si connettano, poi iniziamo a parlare Oggi parliamo di Facebook advertising, ovviamente Ma nello specifico della parte legata alla creatività Quindi andiamo a vedere come creare delle creatività efficaci Ho preparato una piccola presentazione in merito E poi andiamo a vedere una serie di esempi che ho trovato online Molto, molto interessante È un argomento importante, è un argomento in cui io sto investendo molto il mio tempo A livello di studi, perché? Perché ci siamo resi conto Facendo campagne di alto livello, sorgono grafiche e video di alto livello Io adesso, prima di iniziare, attacco il mio telefono Così riesco anche a vedere i vostri commenti con i vostri nomi Lo spero almeno E iniziamo Iniziamo da che cosa? Un attimo solo e arrivo da voi Eccoci qua Perfetto, vedo che c'è Matteo Vedo che ci sono un po' di persone C'è Marco, c'è Inti Siamo in 40, mamma mia Ok, partiamo subito Partiamo con la parte di, insomma, con lo show in stream della mia presentazione di oggi Ditemi se mi sentite bene, ditemi se mi vedete bene E adesso andiamo a vedere, appunto Vedo che ho dato già anche Simona Vedo, insomma, si temi tantissimi Cavolo, ragazzi, benissimo Vi ho preparato una presentazione Poi vi lascio anche le slide Però state attenti perché ci sono tutta una serie di dettagli Che, insomma, dirò solo a voce Perfetto Allora Cominciamo Creatività Spacca Feed per Facebook Ads Perché ho parlato di Spacca Feed già nel titolo Perché il nostro obiettivo principale è fare in modo che le persone blocchino il loro scroll Appunto nel feed L'obiettivo è appunto quello che le persone Man mano stanno cazzeggiando, stanno guardando il, per infatti, il loro Facebook o Instagram E si fermino, ok, durante la loro navigazione a guardare le nostre Facebook Ads Ok? Bene Allora Cosa possiamo dire? Partiamo dalle basi Perché è importante fare delle creatività di un certo tipo? Perché Facebook, lo sapete benissimo, si basa principalmente su contenuti tipo creativo Ok? Si basa principalmente su contenuti visuali Non si basa su contenuti audio ancora Oppure contenuti testuali O meglio sì, però in parte secondaria se andiamo a parlare di advertising Quindi ogni utente, ogni giorno, vede centinaia di video, foto, post E soprattutto alcuni di questi sono organici Quindi cose prodotte dalle pagine, quindi post prodotti dalle pagine O da loro amici Altri invece sono a pagamento E quelli sono quelli che ci interessano Se noi vogliamo ottimizzare la resa delle nostre campagne Dobbiamo capire come creare delle creatività efficaci Quindi partiamo dalla teoria Una buona pubblicità è a tre parti fondamentali Quando parliamo di pubblicità digitale Ok? Ha un hook, quindi una sorta di gancio mentale con l'utente Ha un trigger, cioè un attivatore E ha una CTA Quindi una call to action Quando parliamo di hook Parliamo della prima parte Della parte iniziale Quella che riesce ad agganciare l'utente Verso il nostro video o la vostra immagine È la prima impressione, quella che blocca lo scrollare del feed Una volta che abbiamo ottenuto la prima impressione Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa sola Bisogna creare un attivatore mentale per queste persone Sono degli ottimi video, tra l'altro anche di botto E Andrea Bottoni sul tema Comunque fondamentalmente il trigger è tutto quello che fa scattare un utente Il trigger può essere all'interno del video o dell'immagine O all'interno del copy Ok? Quindi dobbiamo dire all'utente Dare all'utente un motivo Perché decida di poi fare un'azione Quale azione? Quella indicata dalla CTA Quindi la call to action Quindi la chiamata all'azione Nello specifico questa è un'indicazione precisa Dell'azione che l'utente deve compiere Ok? Quindi Un buon video Una buona immagine Ha queste tre caratteristiche Ha queste tre parti Se poi vogliamo vederle all'interno di un'inserzione più generale Abbiamo anche bisogno di un headline Quindi una sorta di prima frase fondamentale Da inserire all'interno del nostro copy Che è quella che fortifica l'effetto del look Ottenuto dalla parte creativa Quindi delle nostre immagini E poi ha tutta una parte di Diciamo Svolgimento Più o meno Lungo Che si poi si mette all'interno del copy Lo sapete benissimo Eccetera Meglio Riusciamo a combinare tutti questi tre elementi Più otterremo dei risultati E' abbastanza ovvio E' abbastanza semplice Ok? Quindi Adesso provo a vedere se esco a rimpicciolirmi E poi Andiamo avanti Nel vedere Un po' le cose Lo vediamo qua Non si riesce a rimpicciolire la mia No Non si riesce a rimpicciolire la mia immagine Quindi pazienza Le slide Poi ve le lascio Allora Eccoci qua Torniamo a noi Quindi Passiamo alla seconda parte della teoria L'attenzione degli utenti Soprattutto quando parliamo di social media E di video E' molto molto ristretta Ok? E segue un andamento decrescente Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che all'inizio del video L'attenzione è molto molto alta Poi man mano che noi andiamo avanti Più allunghiamo il brodo Meno le persone sono attente Quindi che cosa dobbiamo mettere? Il main message Il messaggio principale Dove va all'inizio All'inizio perché? Perché All'inizio del video Abbiamo la massima attenzione da parte di tutti Quindi dobbiamo dire quello che serve In modo rapido In modo concreto E soprattutto chiaro All'inizio Però poi non vuol dire Che non dobbiamo più di niente E riempire il video solamente di immagini No Dobbiamo O la nostra immagine solamente di Di riempitivi No Dobbiamo andare a costruire Una sorta di messaggio Che duri Durante tutta Lo svolgimento La nostra creatività E che porta Nel webinar Che parla di creatività Ok? Che ho fatto un po' di mesi fa Insieme al mio amico Sergio Menichini È quella che Facebook Ogni immagine che andiamo a caricare La va a categorizzare E la va soprattutto a Descrivere Al proprio algoritmo Come si fa a vedere? Poi se vi interessa Scrivetelo nei commenti Vi faccio vedere come si fa Comunque è abbastanza semplice Tasto destro Ispezione elementare Vedete che tag Facebook ha messo Sulle vostre immagini Ok? Quindi sia per i video Sia per le immagini Facebook ci dà Dei tag Dei tag Che fondamentalmente Sono quello che c'entrano nel video È assolutamente precisissimo Cioè andate a vedere Giocandoci che Facebook Capisce esattamente Quello che stiamo dicendo Anche nei video Quindi se inseriamo Del testo Nei video Facebook è in grado Di capire Questo testo Ok? Quindi Facebook è in grado Di Possiamo dire Praticamente Interpretare Quello che noi Andiamo a mostrare Ok? Quindi Se noi vogliamo fare Una cosa fatta bene Dobbiamo essere in grado Di dare dei segnali All'algoritmo Che siano chiari I segnali Possono essere dati Dal copy Possono essere dati Dall'immagine Possono essere dati Dal pattern grafico Dell'immagine E devono essere Dei segnali Che se ripetuti Riescano a tirare Un certo tipo di utente O benzo specifico Tanto che Se volete fare una prova Provate a mettere Una foto Con un cane E andare a spingerla Ecco Questa foto con un cane Andrà ad attirare persone Che solitamente Interagiscono con le immagini Con i cani Oppure Andate a mettere Per esempio Una call to action Acquista Verosimilmente La call to action Acquista Verrà mostrata A utenti Che tendenzialmente Acquistano E molto spesso Sono quelli Che ci servono Però Cosa vuol dire Anche al contrario Che non siamo Gli unici a utilizzarle Quindi più Persone usano La call to action Più si alzano i cpm Quindi dobbiamo stare Molto molto attenti A cosa andiamo a inserire Nei nostri video E nelle nostre immagini E soprattutto Nei nostri copie Perché parole sbagliate Alzano il valore Dei cpm Provare Per credere C'è il mio amico Emanuele Maragno Che mi ha fatto vedere Un caso In cui Inserendo una serie Di keyword Molto 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 Specifiche Ad altissima conversione Altissima tasse di conversione E' arrivato in America Ad avere Un cpm Di 531 dollari Perché? Perché ogni click Era una vendita E te lo posso assicurare Il problema è Che con 531 dollari Per mille persone Si fa anche un po' Fatica A andare avanti Passiamo Alla parte tecnica Come si fa un video Che funziona su facebook Quali sono le caratteristiche Fondamentali Di un video Ok? Quali sono le cose Che effettivamente Fanno fare La differenza Al nostro video Queste sono le caratteristiche Che tutti i video Devono avere Poi ci andiamo a vedere Un po' di video insieme In cui vedete Che sono rispettate Allora Devono avere Il giusto formato Per il posizionamento scelto Non potete mettere Video quadrativi Nella storia Se non potete mettere Video verticali Tranne in alcuni casi specifici All'interno Dei feed Ok? Perché altrimenti Facebook Vi va a penalizzare Perché? Perché statisticamente Insomma Le persone interagiscono di meno E quindi funzionano di meno I video devono durare Intorno ai 15 secondi Se riusciamo Soprattutto se vogliamo Fare dei video Che siano mobile first O comunque Mobile driven Quindi visti da mobile Le persone hanno Pochissima voglia Di seguirsi da mobile Di guardare le nostre pubblicità Quindi le pubblicità Deve essere abbastanza corte Tra l'altro Un trucchetto Che mi ha insegnato una volta Una ragazza Che lavora in Facebook È di mettere il nostro logo All'inizio Alla fine del video Perché Facebook Così lo riconosce E quindi riesce a capire Meglio i pattern Poi di utilizzo Dei video Da parte degli utenti Quindi I comportamenti Degli utenti Questo è un piccolo trucchetto Provatelo Altra cosa Un video deve avere Un hook Quindi un gancio Evidente nella prima parte Perché come vi ho detto prima Nella prima parte C'è il piccolo di attenzione Quindi all'inizio Subito dobbiamo Attirare l'attenzione Poi dobbiamo avere Un trigger psicologico Nella parte centrale Trigger psicologici Che possono utilizzare Far scattare alcune leve Come quelle persuasive Per esempio Le leve della reciprocità Della soul proof Eccetera E devono essere Tutta la parte centrale Del video Perché? Perché è lì Che poi c'è lo svolgimento Come quando scriviamo Un bel tema E in quel bel tema Ci sono C'è un bel titolo C'è un bel inizio E poi in mezzo C'è lo svolgimento E quello svolgimento Deve essere pieno Di micro segnali E micro attivatori Per la testa Dei nostri utenti Altrimenti si annoiano E scrollano Ultima parte Deve avere Una call to action Che venga ripetuta Nel corso del video E che sia Evidente Magari potete mettere L'avvento nel corso del video O comunque che cambia A seconda di quello Che voi andate a spiegare Nel svolgimento Del video stesso Ultimo punto I video devono essere Assolutamente comprensibili Senza audio Altrimenti Tenete conto Che Francesco In metro In metro Quindi sta Sta facendo i fatti suoi Non ha le cuffie Scrolla Facebook E con la sua bella mascherina In faccia Scrolla Facebook E non vede Vede un video Però non ci sono le caption Non ci sono I sottotitoli E quindi non capisce Che lo succede Se non capisce Che lo succede La prima cosa che fa È scrolla Bene Quella è un impression Che non converte Se è un impression Che non converte È un impression Sprecata Quindi buttiamo via Un sacco di soldi E siccome a nessuno di noi Piazza è buttare via Un sacco di soldi E raga Così è Passiamo invece Alle nostre amiche immagini Le immagini devono avere Il giusto formato Giusto Per il giusto formato Per il giusto posizionamento Anche loro Come i video Quello che io vi consiglio È utilizzare immagini Quadrate Perché così Viste a prendere Più spazio nel feed Chiaramente Se usiamo i feed Se invece utilizziamo Le stories Dovete usare Immagini verticali L'ideale sarebbe Una grandezza 1080-1080 O 1920 Per quello che è Non mi ricordo La Potrebbe essere 1920-2080 O 1920-1920 Non so Ok Altra cosa Le immagini Devo avere Dei colori Che le rendano Evidenti E facilmente Riconoscibili E soprattutto Devono avere Poco testo Ma questo testo Deve essere Utile Perché Perché è vero Che Facebook Ha tolto La regola Del 20% Però è anche vero Che le persone Non hanno tanta voglia Di leggere E quindi Se c'è poco testo Ma che possa Aiutare a bloccare Lo scrolling E a far leggere Il copyright Il copy Partito di copy Che c'è sopra È molto bene Magari Magari Quel poco testo Deve essere La call to action Magari Quel poco testo Deve essere Una cosa di chiaro Che porta gli utenti A fare un'azione Altra cosa Le immagini Devono avere Dei segnali Come vi ho detto Poco fa Che le rendano Comprensibili A Facebook Perché più Facebook Capisce Quello che c'è Nella nostra immagine Più È in grado Di diffondere In modo corretto E coerente I nostri obiettivi Le immagini stesse Ok Ultima cosa Le immagini Devono essere Numerose Come anche I video Perché quando Noi facciamo un video Quando noi facciamo Un'immagine Dobbiamo pensare Che la prima parte Quindi nel caso Dei video Sono i thumbnail Nel caso dell'immagine La visibilità Della immagine stessa Quindi l'immagine stessa Non sono adatte A tutti gli utenti Se noi colpiamo Mille persone Tra queste mille persone Ce ne sono alcune Che sono attratte Da alcuni colori Alte da altri colori Alte da alcuni Da alcuni thumbnail Quindi alcune Diciamo Immagini Alte da altre ancora Potete fare dei test E vedere quali Di queste Emozionano meglio Ma soprattutto Quando vogliamo scalare Vogliamo dare tanto budget A Facebook Abbiamo bisogno Di tante creatività Perché in questo modo Facebook riuscirà A diffondere Le nostre Ad Su un pubblico Più ampio E quindi evitiamo Di far salire Velocemente la frequenza Stabilizziamo I risultati E otteniamo Effettivamente Un guadagno Maggiore Ok Siamo arrivati Alla parte Più cicciona Di questa live Tra l'altro Se avete delle domande Ragazzi Scrivetele pure Perché tanto poi Me ne leggo tutte quante Vedo che c'è Emanuele Vedo che ci sono Iris Giovanni Paolo Eccetera Andiamo a vedersi Un po' di esempi Interessanti Allora io Sono salvato Delle cose Di brand Che mi piacciono Particolarmente Come vanno A comunicare Questo è Dermatology 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 E' un brand Di skin care Per donne Di una certa Insomma Non giovanissime Ok Come vedete Loro usano Tanti UGC Quindi Usano tanti Usage Inated content Questi sono clienti Fondamentalmente C'è poco testo Nei video Ma la cosa bella E' che vedete La termina Di un tipo Il video E' molto 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 Dinamico Fa vedere I risultati Fa vedere Le call to action Fa vedere Cosa c'è dentro Racconta Una serie di cose Questo video E' molto interessante Perché Perché il target Di riferimento Poi interagisce E questo è un video Che è dato Di genere Marketing Andiamo a vederne altri Sempre loro Ci sono delle immagini Di prodotto Ci sono Degli altri video Questa 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 Delle 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 Dirette Vedete Che c'è L'utilizzo Del prodotto E vedete Anche Che qui Ci sono Le recensioni Loro Ci mettono Anche Le stelline Però E' molto Bello Perché Copy Molto Breve E Risultato Efficace Qui C'è La parte Di C'è Questa Signora Che dice Che Il marito Quindi Una grande Leva Di La ritorno Sociale Diretta O Indiretta Che viene Utilizzata Vedete Che usano Delle cose Molto Semplici Montate Ritmo Questi video Durano Un po' Di più Perché Perché Parliamo Di video Di remarketing Poi Abbiamo Altri tipi Di inserzioni Insomma Potete entrare Nella Library Di facebook Andarveli A vedere Come vedete Insomma E' un brand Che pur Essendo Utilizzando Accettività Abbastanza Low cost Effettivamente Sto facendo Le bellissime cose Ve ne faccio Vedere un altro Che Invece Parla Di Un brand Completamente Diverso E Mi piaceva Molto Per questo Perché Questo È un brand Niente di strano È un brand Abbastanza grosso Comunque E che cosa fa Questo brand Questo brand Invece Utilizza All'interno Della creatività Stessa Con un pattern Grafico Abbastanza Semplice Le recensioni Come vedete 5 secondi Una sorta di slide show Però colpisce Molto l'attenzione Molto rapido Molto efficace E non è male Chiaro Per un italiano Vedere questa cosa qua Sembra roba La battaglia Magari per un americano Questo stile Ci sta Come vedete Loro Utilizzano Dei copy Molto 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 Correlati Al tipo di utente E funzionano Tra l'altro Ci sono anche Una versione femminile Come vedete Tanti Bei Scatti Ci sono persone Che parlano Ci sono indossati Ma vedete Guardate quante creatività Stanno girando Contemporaneamente Perché Perché semplicemente Vogliono andare a beccare Stili diversi Di persone diverse Qua ci sono creatività Ancora differenti Queste d'altro Sono di remarketing Dinamico Insomma Un altro bel brand Tra l'altro Infatti 104 milioni Di follower E funziona Qua c'è anche Un'altra bella creatività Per quanto riguarda Gli sconti Come vedete Molto 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 chiaro Vedete subito Di quello che sto parlando Se vi fermate Se vi fermate Funziona Poi Andiamo avanti Andiamo avanti Bloomberg Questo è il mio Preferito in assoluto Ma io adoro Questo stile Molto chiaro Molto semplice Molto efficace Ok Come vedete Un video Veramente Rapido Blocca il feed Ve lo assicuro Call to action Chiara Stile a mille E funziona A cannone Poi loro hanno Anche altre inserzioni Ovviamente Perché Fanno Fanno Altre cose Altra cosa Che mi piace molto È questa qui Perché Comunque Passa un messaggio Molto chiaro I lettori Secondo me È un bel lavoro Come vedete Le rotate Comunicano molto Su formati diversi Quadrati Verticali Eccetera Proprio perché Probabilmente Hanno tantissimi lettori E ci hanno cercato Di massimizzare La delivery Di loro contenuti Comunque Questa linea qui Di Bloomberg È effettivamente Quella più colorata E quella che poi Ti resta più facilmente In mente Se provate a entrare Nel loro Nel loro sito Poi dire marketing Vedete Un sacco di art Diverse da queste Poi Ancora Questo Questo è Fichissimo Qua abbiamo Thrive Thrive Che invece è Il maestro Dal mio punto di vista Thrive Cosmetics Dell'utilizzo Del prodotto Fanno vedere il prodotto Nell'utilizzo Diretto È fighissimo Perché vedete Che è una persona Vera questa Non è una modella Una persona Con le sue Diciamo Imperfezioni Bellissimo occhio Ma una persona Che potrebbe essere Una persona qualsiasi Video di 15 secondi Call to action Chiara In realtà Questo è un ad Di tofu Vero similmente Quindi La call to action È Guarda questa cosa Oppure Questi Ancora meglio Stai Stai con la musichetta Ma come vedete Fanno vedere subito L'opinione Delle persone Vedete che c'è un sorriso C'è molto L'effetto Del prodotto Però è semplice Che può fare Praticamente chiunque E tra l'altro Avete visto anche Il copy Il copy è Direttissimo E tra l'altro Spiega bene 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 Quello che è L'utilizzo Di questo mascara Quelli che sono I valori aggiunti Questo è un po' più lungo Probabilmente perché Diziene il remarketing Questo comunica Il backing stock Quindi già Il thumbnail Ci fa capire Di cosa stiamo parlando Se ci clicchiamo sopra C'è il prodotto E questo indica Facebook Il tipo di utente Che cliccherà Su questo prodotto E poi tutto il resto Qualcuno dice Contro le policy Facile Non lo so Non penso Simone che sia Contro le policy Questa cosa Altrimenti non girerebbe Qui invece Parliamo di prodotto Questo è ancora più facile È uno scatto Con semplicemente Un'indicazione Sul prodotto specifico Insomma Vedete Queste sono cose Che Se vi capitano Nel feed Le vedete Vi piacciono Dite Ah no Interessante Molto molto interessante Anche se non siamo in target Io le guardo Le contesto Sto creativo In realtà Poi magari un giorno Comincirò a mettermi Il mascara Ma non penso Sia oggi E quel giorno Altra cosa Questo è ancora diverso Cirp Cirp Aspetta Non è neanche cosa Che volevo mostrarvi Beh questa era molto figa Perché mi piaceva molto L'utilizzo Di immagini Differenti Per far capire Il prima e dopo E tra l'altro Questa circolazione È molto bella Perché poi vedete Le immagini Sono molto molto chiare Semplici E pulitissime Design completamente diverso Però quando lo scrollate Ve lo ricordate Secondo me Soprattutto se lo vedete Un bel po' di volte Poi abbiamo un altro ancora Questo mi è molto piaciuto Per l'utilizzo Che fanno Il Della dinamica Vedete questo è uno stile Molto più vicino a TikTok Molto più rapido Molto più a scatti E questo perché Perché probabilmente È un target Che vuole Cioè un brand Che vuole comunicare Ai più giovani Per esempio E quindi magari Vedete C'è il 25% off È molto 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 dinamico Piace Funziona Bisogna capire quanto vende Però Insomma Attirata la mia attenzione E non solo per la modella Poi Vediamo ancora Cosa posso farvi vedere No Questo no Perché Quello Ve la rimetto di qua Eccoci qua Un attimo solo Che carica la pagina Perché ragazzi Qua Facebook Oggi è Particolarmente lento Quando vi carica questa Che probabilmente Non riesce a mostrarvi Vi faccio vedere Invece quest'altro Eccolo qua Qui invece C'è un look chiaro La number one reason Guardate subito C'è la prima cosa Che vedete È The number one reason You need New towel Quindi voi avete un hook Avete Della Degli trigger Ok E guardate che tra l'altro Vi spiega bene Come funziona Il prodotto Il cliente È una persona normale E soprattutto Vi dà Tutti i valori aggiunti E vi dà Anche il prezzo Quindi se ci cliccate Con La versione finale Del claim Ma se ci cliccate Effettivamente Avete voglia di comprare Per l'altro La cosa carina È Che Dicono Di buttare I vostri Insomma I vostri Towers I vostri asciugamani E la cosa incredibile È anche il fatto Che probabilmente Le loro target Di riferimento Sono Dei millennial Attenti all'ambiente E probabilmente Ok Il 10% Di profitto Andranno Alla Conservazione Marina Può aiutare A far vedere Un valore Aggiunto All'azienda Mi fanno Un po' schifo Le loro creatività Dal punto di vista Dei coppi Perché sono Questi Muli Di coppi Però Per il resto Insomma Sono molto 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 Forti Vediamo se Sono farvi vedere CIRP Ma evidentemente Questo CIRP qua Non vuole farsi vedere Pazienza Quindi in realtà Ragazzi Ho finito La mia Lezione Adesso Adesso Cosa posso Raccontarvi ancora Posso raccontarvi Allora Eccoci qua Domanda Numero 1 Quale app È meglio utilizzare Per le creatività video Allora Per le creatività video La migliore App da utilizzare Dal mio punto di vista È un videomaker Ok Prendete un videomaker E utilizzate il videomaker Detto questo Ce ne sono diverse Se volete fare delle creatività Per mobile In modo semplice Potete usare Mojo O Unfold Se invece Volete fare delle creatività Per Insomma Statiche Quindi immagini Potete utilizzare Sia Canva Sia Photoshop Sia quello che vi pare Ci sono mille modi Di fare queste cose Le creatività Si possono fare Con tutti i sistemi Qual è il discorso Però da capire Che è tutto nella testa Siamo noi A dover capire Qui dentro Ok Qual è la creatività Che dobbiamo utilizzare Perché è l'idea Che fa la differenza Non è solo lo svolgimento Avete visto Sono creatività semplicissime Quelle eppure Funzionano Poi L'interattività Touch Dei video È possibile È possibile Solo e soltanto Con video interattivi Che sono Fondamentalmente Video in realtà aumentata E che non sono Oltre tutti Insomma Non è Non tutti gli utenti Possono fare Purtroppo Quindi questo va Bene ragazzi Io ho fatto 25 minuti Di chiacchiere Spero che Si sia Capito Tutto quello Che ho voluto dire Se avete delle domande Sono qui a disposizione Eccoci qua Allora Domande Scrive Scrive Commenti Eccoci qua Cos'altro Nei prossimi giorni Sono un po' meno attivo Perché devo cominciare A lavorare Sul nuovo Facebook Advanced Vi do questa Bella notizia Faremo La nuova versione Del nostro corso Più venduto Sull'advertising Di Facebook Quindi nei prossimi mesi Vedete che ci sarà Una vera innovazione Da tutti i punti di vista E inserirò anche Parte di quello Che vi ho detto Questa sera Intanto Vedo che Non ci sono Delle domande Quindi Se Ragazzi Non Avete domande Per me Ah no Eccoci qua Eccoci qua Pensi che i colori Come la verde acqua E la combo blu Con verde florescente Abbiano un'abilità Di hook Maggiore Rispetto ad altri colori In realtà no Non è una questione Di colori E' chiaro che però Più vividi sono i colori E più sono in trend Con i colori Che ci sono nel mondo Insomma Ci sta Più sono visibili Poi nel caso specifico Io ho beccato Alcune cose Alcuni colori Molto fresh Però non è Quello che fa la differenza Anzi Non è Vi assicuro Che anche il rosso Il verde Il blu Funziano tutti benissimo Anzi Forse anche meglio In alcuni casi Ci sono anche Creatività bianche e nere Che vanno fortissime Poi Con Canva Si possono fare Dei video efficaci Si si possono fare Solo che Ovviamente Canva È un sistema Molto molto limitato Quindi Da questo punto di vista Non è fatto Per fare queste cose Però per fare Resize O altre cose Si possono fare Belle cose Cosa ne pensi Di siti In affiliazioni Per Creatività Beh Io penso Che Se trovate qualcuno Che vi fa Le creatività Bene Se non riuscite A parlare da soli Però io Non delegherei La parte più importante Nella nostra campagna A qualcuno Che è al di fuori Dal nostro business No? Ok Cosa ne pensi Del copilungo Questa è una domanda Che io ho risposto Varie volte Ma Concettualmente Copilungo O copi corto Non hanno Alcuna differenza Esiste copi buono Copino buono I copi buoni Possono essere anche lunghi Si sono ben strutturati I copi corti Possono anche essere Migliori Se ben strutturati Non c'è alcuna differenza Ci sono dei nostri business Che funzionano molto bene Con copi più lunghi Altrimenti Come risponderesti Se il tuo capo Ti chiedesse Di raddoppiare I follower Sui link In 30 giorni Gli risponderai Che il miracolo Li fa solo il signore E che L'efficacia Non si misura Sicuramente Sul numero di follower Che uno ha Ok Cosa ne pensi Della creatività dinamica Di Facebook Lasciargli fare Oppure testare Ogni singola creatività Lasciarlo fare Al 100% L'algoritmo È molto meglio Del tipo di test Che noi possiamo fare Ve lo assicuro Funziona benissimo E Adesso vediamo Chi sei Ben Ti posso dire Usare bene Le creatività dinamiche È di far risparmiare Un sacco di soldi E un sacco di tempo Quindi cerca di utilizzarle Bene Vediamo se ci sono ancora Le ultime due o tre domande Tanto è sotto Enrico Fabio Eccetera C'è Claudio Benissimo Vedo qua ci sono Un sacco di Policini Tra l'altro Se vi piace questo video Metteteci un commentino O un like Così aumentiamo La distribuzione All'interno del gruppo Siete in 100 Mi aspetto almeno 100 like Siamo a 53 Vabbè Scarza ovviamente Quanto impression Per valutare una creative Dipende Dipende dal business Che hai E dipende Dal tipo di creatività A volte ne bastano Anche 5-600 A volte ne sono 8000 Quindi dipende Dal caso specifico Noi cerchiamo di stare Tra i 2 E i 5000 Di solito impression Però dipende Dai casi specifici Ok Ho notato Quello nuovo formato Per Facebook Il formato quadrato Ah Quello nuovo Facebook Il formato quadrato Non si vede bene Come prima Si vedono Delle stisce Neri lati Sì è vero Purtroppo Ma così Poi Questi video Che hai fatto vedere Non penso siano fatti Con videomaker Ma penso Siano fatti Con Canva O altri programmi Tu cosa dici Potrebbe essere Ma magari Ci sono dei videomaker Che sono Appesializzati Per fare queste cose Meglio immagine Video carosello Questa è una domanda Che in realtà Non ha nessun senso A livello pratico Perché tutti Tra tutti e tre Insieme Nella vostra inserzione Vete caricare Sia la versione carosello Sia l'immagine statica Sia il video E sia lo slide show E sia la versione verticale Sia orizzontale Sia quadrata Tutto quanto Secondo te Meglio foto video Per ads È un po' Come rispondere Meglio l'intero La juve O meglio È evidente Che sia meglio l'intero Ma non lo so Non lo so Dipende dal business Non è una domanda Come possiamo dare A una risposta Mi dispiace Meglio usare inserzioni O post da presenti In una pagina Ovviamente inserzioni Se dovete fare adivi I post servono Per comunicare Allo suo target E poi vanno messi In adivi Ok Grazie ai video che fai Sono molto costruttivi E mi insegnano molto Mi fa molto piacere Ogni tanto mi piace Fare queste lezioncine Un po' più complesse Perché spero Che vi tornino utili Se usi lo stesso video Ma cambia sempre I soli tambien Nei primi tre secondi Facebook la considera Come una creative Ma in realtà Sì Poi chiaramente Il target Che andrà a raggiungere Magari sarà diverso Magari no Ok È un buon compromesso Fare creative I quattro terzi In modo da avere Una via di mezzo Tra Facebook E Instagram In fase di testing Io ne farei diversi Non so dirti Se uno o l'altro Vanno fatte Tutte e due Almeno dal mio punto di vista Provare tutti i formati Quattro quinti Quattro terzi Sedicinoni Provate tutto Quello che potete provare Tra l'altro vedo che c'è anche La mia cara moglie Che ci segue Ciao Asietta Adesso io sono ancora in ufficio A quest'ora Perché volevo fare questo video Ma tra poco torno anche a casa E niente Ragazzi Se non ci sono altre domande Io vi saluto Vi auguro una bella serata Spero vi sia stata utile Questa lezione Ci tenevo da un po' A farvela Quindi insomma Grazie per avermi seguito Finora E se avete altre domande O dubbi Se l'avete poi dopo Tranquillamente Sono a vostra disposizione Nei commenti Come al solito Buona serata E ci sentiamo molto presto Ciao ciao